Un saluto a tutti gli amici del SomiSmart Channel, siamo ancora con un video di recupero del Toissimi parliamo dell'unboxing, questa volta della Soft Winley Figure, quindi Sofubi di Kamen Rider Faiz o 555 come si scrive, quindi si dice Faiz ragazzi vediamola in velocità, tanto non state scoprendo nulla di particolarmente nuovo andiamo ad aprire la scatola per vedere cosa conteneva ovviamente il cartonato che bloccava il Rider all'interno della scatola e questa carta con alcuni numeri di telefono che speriamo di non chiamare mai per non pagare l'ira di Dio in euro ecco qua, diciamo parla sicuramente del personaggio ma noi non conosciamo il giapponese quindi ci è assolutamente inutile mettiamo qui la scatola e portiamo dentro Kamen Rider Faiz nella versione della figure, appunto la Soft Winley eccola qui, vedete molto semplice nei lineamenti e anche nella colorazione è appunto morbida, vedete ha alcune articolazioni che posso farvi vedere se decide di mettere a fuoco ovviamente ecco qua perfetto normalmente il visore diciamo di base dovrebbe essere, facciamo conto ecco, trasparente con una trama circolare all'interno come diciamo fa vedere qui nella scatola, vedete? dovrebbe essere così però per una soft figure è normale che sia in questo modo anzi normalmente sono pitturate solamente a metà nel fronte e poi nel retro vengono praticamente vediamo se riusciamo a farglielo la metà a fuoco benissimo nel retro poi viene, diciamo così, trascurato il dettaglio e viene lasciato tutto quanto del colore di base che sia nero, bianco, giallo, insomma quello che è ok questa era la soft VINLY figure di Kamen Rider Faiz è stata molto 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 veloce vediamo se riusciamo ad aggiungerci qualche foto alla fine del video altrimenti niente ciao ragazzi